Realmonte, migliaia di studenti italiani in gita didattica virtuale alla Scala dei Turchi, guida turistica, il sindaco Sabrina Lattuca. Gaetano Ravana. Più di 10.000 alunni di istituti comprensivi di 450 città d'Italia visiteranno oggi la Scala dei Turchi di Realmonte in Coditrip, ossia online. La città scolastica virtuale, combiere un viaggio, i cui temi sono ben sintetizzati nel titolo del progetto che è valso alla città il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2025. Il sé, l'altro è la natura, relazioni e trasformazioni culturali. Il progetto è organizzato da DGTSRL, spin-off dell'Università di Urbino, in collaborazione con l'Università di Urbino e con Giunti Scuola. Questa particolare edizione di Coditrip è concepita per coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado, utilizzando linguaggi accessibili fin dalla scuola primaria, ma approfondendo temi di forte interesse anche per la secondaria di secondo grado. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, accompagnata dal docente Alessandro Bogliolo dell'Università di Urbino, ha fatto da Cicerone in collegamento con i ragazzi dalla Marna Bianca della Scala. Un'ottima opportunità per far conoscere i ragazzi che, oltre ad essere il presente, sono anche il futuro della nostra terra, la meravigliosa Marna Bianca. La Scala dei Turchi, che recentemente è stata inserita nell'elenco dei geositi più importanti al mondo, oltre ad essere candidato a diventare ben unesco, è stata raggiunta dalle scuole di tutta Italia, che hanno avuto anche la possibilità di interagire con noi, ha detto la prima cittadina di Realmonte. Questa è la crescita che vogliamo per il nostro territorio, dove al centro ci sono le nuove generazioni, alle quali consegneremo il futuro. Continua ancora Sabrina Lattuca con l'auspicio che possano, sempre più numerosi, venirci a trovare di presenza. Visiteremo, oltre alla Scala dei Turchi, altri siti e la famosissima zona archeologica della Valle dei Tembri, spiega il docente Alessandro Bogliolo, patrimonio UNESCO. Faremo esperimenti interattivi, in diretta, giocheremo con il coding, passeggeremo senza meta. Il Coditrip non sostituisce le gite tradizionali, ma offre opportunità didattiche e culturali a distanza, ispirate al modello dei viaggi di istruzione, che possono essere liberamente usate da scuole e insegnanti per espandere l'offerta formativa. L'uso appropriato di tecnologie digitali ci consente di spingerci ben oltre i limiti di una normale gita. Grazie. 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 Grazie.